abiteresti in una grotta? probabilmente no ma gli uomini primitivi prima dell'invenzione dell'agricoltura erano spesso costretti a trovare abitazioni di fortuna perché non aveva senso costruire un'abitazione per poi lasciarla in breve tempo una volta che le risorse alimentari erano finite perché prima dell'invenzione dell'agricoltura l'uomo era nomade quindi spesso abitava in abitazioni di fortuna tra queste erano anche le grotte l'agricoltura dà una svolta decisiva si inizierà a costruire le abitazioni e nasceranno le prime città grazie 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 grazie